Procuratore nazionale antimafia incontra Gratteri, qui pilastro per contrasto alla criminalità organizzata in Italia. Sono molto contento di essere qui a Catanzaro perché era da tempo che con il procuratore Gratteri contavamo di fare una riunione con tutti i suoi magistrati. Io cerco in generale di conoscere da vicino tutte le procure e gli strettuali. Poco tempo fa sono stato a Reggio Calabria per una riunione analoga. Sono a Catanzaro perché sono i due pilastri su cui si regge una parte importante dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata nel paese. Così il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, che ieri pomeriggio ha avuto una riunione con Gratteri. Tutti i suoi PM e il procuratore generale Giuseppe Luca Antonio nella sala conferenze della procura di Catanzaro. Sono qui, ha aggiunto Melillo, anche per dire ai colleghi, soprattutto a quelli più giovani, che la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo è una struttura di servizio per il lavoro delle procure distrettuali. Noi lavoriamo accanto alle DDA. Abbiamo l'esigenza di accorciare sempre più le distanze tra la Procura nazionale e le procure distrettuali. E quest'anno le distanze si sono parecchio ridotte. Con i procuratori distrettuali tutti ci riuniamo per esaminare i problemi comuni, al di là del coordinamento delle singole indagini. Anche questo serve per costruire una sorta di tessuto di responsabilità istituzionale, perché l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e quella del pubblico ministero in particolare devono avere per contrappeso il senso di responsabilità. E del senso di responsabilità fa parte la consapevolezza della necessità di dover lavorare insieme, di doversi confrontare. In quest'anno ho ricevuto una straordinaria prova di disponibilità, un contributo prezioso ogni giorno dai procuratori distrettuali tutti, e in particolare dai procuratori che guidano le procure più impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata. Parliamo di questo incontro già da prima che il Procuratore nazionale antimafia ricoprisse il suo ruolo. Questo vi fa capire il rapporto che ho sempre avuto sul piano personale con il Procuratore nazionale antimafia già da quando ero capo di gabinetto. Non dimentichiamo che quando ero capo di gabinetto del ministro Orlando è stato lui quello che mi è stato più vicino di tutti per farci avere sette pubblici ministeri in più e uno aggiunto. A dirlo il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che oggi ha incontrato il capo della DNA a Catanzaro. Non dimentichiamo, ha aggiunto, che è stato Melillo a darci sette auto Passat quando noi avevamo le Fiat Punto Bianche. È un rapporto antico quello che ho con il Procuratore nazionale antimafia, un rapporto di stima e di affetto. Gratteri ha anche scherzato sulla presunta rivalità con Melillo nella corsa alla DNA. Ricordate quando mi punzacchievate, ha detto rivolgendosi ai giornalisti, e io vi dicevo vedrete, la Procura nazionale antimafia migliorerà perché Melillo è un bravo organizzatore capace. E infatti non ho fatto ricorso sulla nomina, ma noi di tutto ciò già ne parlavamo prima. Sapete che sono abituato a dire quello che penso, questo è il mio rapporto con il Procuratore Melillo.